Il nuovo volo avrà una doppia frequenza settimanale da giugno sino a tutto settembre. L'inclusione di brindisi nel network di British Airways non è solo una novità assoluta per l'aeroporto, ma è un riconoscimento ai progressi compiuti sul piano degli standard di servizio prestati ai vettori presenti negli scali pugliesi. La decisione di British Airways di rafforzare la propria presenza in Puglia si coniuga con la volontà di aeroporti di Puglia di ampliare e diversificare la presenza e le offerte delle compagnie aeree, di migliorare il livello di accessibilità alla nostra regione. Grazie al nuovo volo, Brindisi si collega al principale aeroporto del Regno Unito e soprattutto al primo hub europeo per numero di passeggeri, circa 75 milioni lo scorso anno, con indubbi vantaggi sul piano delle prosecuzioni intercontinentali e internazionali. Da Brindisi si potrà volare sui tre principali scali di Londra, Heathrow, Gatwick con EasyJet e Stansted con Ryanair, oltre che su Manchester sempre con Ryanair e dare ulteriore linfa al già eccellente livello di connessione con uno dei primi mercati, fonte per il nostro sistema turistico ed economico.